ciao a tutti come state spero tutto bene benvenuti o ben ritornati sul mio profilo oggi nuovo video chi mi segue sempre su tutti i miei social saprà che io da pochissimi giorni ho comprato il mio primo microonde sono veramente troppo contenta e l'altro giorno, venerdì credo sì, sono andata a fare un po' di shopping per il microonde ho comprato un pochino di cosine che mi servivano perché in dotazione col microonde ho trovato solo la teglia crispy, la teglia basic, quella base due alzatine, una bassa e un'alta il manico per la teglia crispy e una a vaporiera e basta tutto il resto non c'era giustamente e siccome io in casa non avevo nulla per il microonde sono andata a fare un po' di acquisti quindi oggi, adesso, vi faccio vedere quello che ho trovato in giro per i vari negozi allora, queste sono tutte le cose che ho comprato per il microonde adesso pian pianino ve le faccio vedere bene tutte allora, se loro stanno lì buoni, possiamo incominciare questa è la prima che ho comprato questa teglia rotonda della Pirex per fare le crostate bella bassa io amo la Pirex perché io mi sento molto molto più sicura con questo tipo di materiale rispetto alle cose antiaderenti o robe del genere insomma perché credo che il vetro sia il materiale numero uno quello più sicuro per cucinare quindi preferisco questo tipo di oggetti numero due questa pirofila sempre rotonda però come potete vedere leggermente più alta questa per le crostate questa invece l'ho presa per le torte che lievitano poi altra Pirex questa quadrata questa la voglio usare per le lasagne per i cannelloni oppure per i tortini di patate questa ho intenzione di usarla in modalità air force credo si dica così sto imparando adesso i termini del microonde con il piatto girevole fermo quindi non c'è bisogno che ruoti insomma questa qui poi ho preso questa 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 è col coperchio ed è più alta adesso la apro vedete questa è fatta così mi è stata consigliata su alcuni gruppi facebook anche se non ho ben capito cosa ci posso cucinare quindi scrivetemi sotto nei commenti o mandatemi dei messaggini insomma cucinare veramente di ogni però ancora non ho ben capito cosa però io l'ho presa quindi ok poi ho preso questa pellicola per microonde trasparente aderente 20 metri questa qui poi ho preso questo stampo in silicone di tescoma meno 40 più 230 gradi e qua dietro c'è proprio scritto ideale per preparare sei waffle nel forno tradizionale o a microonde lo stampo lo stampo evita che si bruci è facile da pulire aiuta a sformare i waffle con facilità prodotto in silicone di alta qualità resistente al calore da meno 40 a più 230 adatto per essere utilizzato in forni a gas elettrici ad aria calda e a microonde lavabile lavastoviglie istruzioni per l'uso e ricette incluse all'interno della confezione grazie a 5 anni dentro qua ci sono delle ricette apriamo subito sono queste le ricette aspettate che trovo la lingua italiana ricette waffle cotti al forno waffle con pomodorini secchi waffle di patate tipo pancake scusate ma mi ha chiamato mio marito stavo dicendo sempre si è registrato perché non mi sono resa conto waffle di patate tipo pancake waffle cotti in forno a microonde perfetto ci sono un po' di ricettine quindi mi raccomando iscrivetevi attivate la campanellina o attivate le notifiche che li farò con voi proveremo tutte le ricettine tutte le cose nuove del microonde con voi il stampo è così giallo con appunto 3 3 6 waffle e non vedo l'ora di assaggiarle io li amo i waffle piacciono tantissimo proseguiamo ho preso questa tazzina in vetro per microonde questa l'ho presa per scaldare burro per scaldare cioccolato per scaldare una tazza di latte insomma l'ho presa così poi ho preso questo cuoci uova questa è della tempo zero microonde del time zero cuoci frittata uovo in camicia omelette 3 minuti 4 minuti 600 watt 800 watt omelette uova in camicia come questo questo è fatto così qui dentro c'è un libricino istruzioni si stanno parlando stanno chiacchierando tra di loro mescola all'interno del prodotto gli ingredienti usare il prodotto senza vassoio intermedio che serve solo ed esclusivamente per cucinare l'uovo in camicia riempi il contenitore con acqua il livello dell'acqua deve coprire l'efferitore del vassoio riempi il colino insomma qui c'è scritto tutto ti fa anche vedere le immagini quindi vabbè proveremo proveremo perché io devo provare quindi va bene poi proseguiamo che carini finché stanno buoni proseguiamo poi ho preso questo prodotto di tescoma tescoma sì per cucinare il riso apriamo tutto così bianco ok qui abbiamo questo qui che credo sia un dosatore e qui abbiamo il libretto di prima con le indicazioni insomma ultimo prodotto questo sempre di tescoma io questi prodottini li ho trovati tutti scontati al 50% cioè io tipo di tutto ho speso veramente una cavolata perché era tutto scontato al 50 o al 40% tipo per farvi un'idea io questo l'ho visto su Amazon a 38 euro 34 euro io in realtà questo l'ho pagato 15 euro quindi insomma ne ho approfittato il coperchio è fatto così c'è sempre dentro il libriccino e dentro è fatto così ok ok ragazze e ragazzi se c'è qualche maschietto che mi segue queste sono tutte le cosine che ho comprato per il microonde sono contenta di tutte queste cosine non vedo l'ora di incominciare a cucinare veramente tanto col microonde e basta direi che vi ho fatto vedere tutto adesso vado a lavare tutte queste cose vado a spacchettarle per benino vado a togliere tutte le pellicole e pelliccoline e inizio a leggermi i vari libriccini questo è tutto io vi mando un grandissimo bacione e alla prossima ciao ciao